sera ragazzi buonasera buonasera a te ti vedo abbastanza agitato eh sì mi sto agitando proprio pericolosamente sono agitato sono 280 e 300 mila patti la voce di giampiero gasperini al napoli è più di una voce assolutamente no assolutamente no assolutamente no assolutamente non venire a napoli giampiero gasperini mi chiammi chiesto che è su pareci ora perché molti fermo non dimentichiamo guarda qua forza napoli forza napoli contro il napoli non devi mai sbarcare a napoli caro barbapapà ma è buona non è buona perché non è buona gasperia non serva propria no spallettone tenevo occhi due manette di rombreggiano della pezzi troppo un anno dopo due anni bucateci ora lasciate la rostata però ma si dice no ma io no ma io non devi proprio accortare neanche scritto coppia giornale io sono d'accordo con te però però c'è un però calma che mostriamo agitati la citazione della notizia ma sta calma perché perché non può brenavala e questa è la verità no è assolutamente però noi abbiamo guardato pure a noi e dobbiamo un po ragionare e ragionare gasperini a livello di allenatore può allenare solo in serie b non è male non è male non è male la squadra che vanno sulla cassa corrono però eh 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 cacciano carattro gasperino ma la davanti fa giù da Milano all'Inter poi non hanno calciato la poi poi non hanno calciato ma la davanti la davanti io che buono e lascia il statino a te per scendere una coppola ma sto dicendo che è buono eh ma attensi perché a Napoli gasperino noi non lo vogliamo non lo vogliamo e sono con i primi che non lo vogliamo però esso mi ha picchiato gasperino questo papicolo che lei è una figura antipatica è contro è giade giade bruttolino se non vengono a questo contratto con Napoli non c'è paparego non c'è paparego non c'è paparego è un po' sempre cosa metto il presidente mio non 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 ma lo chiedete pure tu se si vai a casa eh valla io io valla per il punto di riuscita valla per il punto di riuscita valla per il punto di riuscita eh ma bucci ragazzi sono solo pull puoci una fuoco però ma casperino non bussino malamente eh ma dite a te tu mi sono sicuri tu casperino non sarebbe male perché voglio da davanti alla dall comunque sprazi di grande calcio anche in Europa Sì, vabbè, vedi che la spaggia è in Napoli, poi... Nel senso non seguono più niente cose, perché le ammette che è antipatiche! Uuuuh, vado giuro, mamma mia! Una persona antica patichissima, una persona brutta, scontrosa, il mio pallone non va per lui, il calcio italiano, 4-4-2, io ho 3-5-2, Gossens, Cagliardini, Vistagnura, Cagliardini, Gossens, parecchi pacchi, tutti pacchi! Ragazzi, io ci credo! Tu ci credi, non ci credo, perché in caso non si deve smantellare tutto, smantelleremo tutto! Ma ne andiamo qui, assolutamente! Però questa cosa... Chi va? Chi sono io? Sappi che chi è mai in Napoli, Europa è contro Napoli! Assolutamente! Un amico di Napoli! Un ammessario di Napoli! Allora, ma tutto quanto vogliamo bene! Però chi se ne va in Napoli, Europa, a prendere i miei! E' andata, vengo tutto quanto! Perciò si viene Casperini! Guarda sempre poi la città di queste cose, la satamaglia, questa! No! Gagnardini, la chi che fa! Se viene Casperini! Se poi viene Casperini! Eh, vengo Casperini! Vengo Casperini! Ma accoglie... No, ma accoglie... Assolutamente si deve cambiare sport! No, si cambierà per me! Si cambierà sport! Si cambierà sport! Si cambierà sport! Perciò il barbaccio, la figlia, la figlia... Non so, c'ha italiana! Un spallettono! Italiana? Italiana! Ma piglia del zebbo! Puglia del zebbo! Puglia del zebbo! Puglia! 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 La gente era gatti! Puglia! Puglia! Ma pensavo! Puglia! 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 Gli casperini! Non dura tre minuto! Gli casperini! Cappiga, no? Gli casperini pursus! Un puss! Un puss! Matempo! Gli casperini! Forse i casperini ci avranno! a me quando ti piace? io con l'Atalanta no, a me piace la persona, non mi piace una persona che non può mai venire uno che ha criticato sempre non ci può fare non ci può fare a nulla ci può fare ma tu vuoi bene sottosci queste persone che vuole sempre venire a Napoli non sono sempre criticati non sono sempre venire a Napoli pur si vince a cervello sull'Igz ma io non ho bene nessuno queste sono tutte le manovre che ora può vendere per fare un'altra parte di Casperino vado a dire una cosa che hai detto vado a dire 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 no, assolutamente Casperino ma è solo una voce vabbè io cambierò sport se viene Casperino a Napoli si cambierò sport cambierò sport se la città 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 calmati stingo il techo mi vado agitato ragazzi non vado a dire closet 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 vado a dire la situazione delle scudette e facciamo le cose bolla se ne andiamo a chi sta una di mano sarà una danna e fuia fuia se la città pensate secondo me amma fa una mano però quella che lo ritira è bella ricordate non ti andrà mai sempre bene perchè niente vado a prendere Casperino se crede che vengono 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 casperino è buono a livello di allenatore ma a livello di Roma mi lascia questa roba non è una persona che non può mai venire a allenare un apolo che è una che non ci può abbarare ci può alleggerire eh non può mai venire a allenare un apolo e allena solo per uno la Spezia Bergamo Briscia che sta roba qua ma oltre ma anche centro sud ma non la Firenze non arriva perché già ne può abbarare più ok aspetta questo è un messaggio che ti vi dà la situazione si viene a Napoli questo è un messaggio è bello a Napoli a Napoli per esempio non vado a Napoli rimani dove sta vado a fare la Camerata Marcelli vado a fare la Napoli che come come Cremona Brescia Bergamo la devi rimanere non di più non scende perché è abbastanza grave assolutamente sarebbe un guerra assolutamente 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 aspetta la Camerata devo pagare come sto calma so calmissimo poi ti chiedi che non ti non